Buongiorno, siamo quest'oggi qui a Roma all'incontro dibattito la via italiana al microcredito dalla fiction alla realtà con l'onerevole Mario Baccini, presidente del comitato del microcredito nazionale, la regista Lina Vermuller e la produttrice Ida Di Benedetto. Prima del dibattito sarà proiettato un film di Lina Vermuller dal titolo Mannaggia alla miseria, una produzione Titania in collaborazione con la Rai Fiction e Rai Cinema. Un film che tratta l'argomento del pubblico. Grazie a tutti. la fotografia 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 allora grazie grazie intanto per essere intervenuti grazie ai protagonisti del film e alla nostra vera protagonista la G. Müller che è qui che salutiamo con un grande attenzione a nome anche del Comitato Nazionale del Consiglio di Amministrazione per il microcredito e la microfinanza che è un'istituzione pubblica un'istituzione che abbiamo voluto chiedere ai protagonisti di questa opera di poter unire le forze per raggiungere degli obiettivi però io prima di parlare del nostro microcredito lascerei ovviamente la parola alla nostra protagonista che è con me alla quale chiediamo anche di dirci come nasce questa iniziativa e poi gli chiederò anche io qualcosa su questo prego grazie 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 non solo io ma è Mohammed Dio non so come nasce nasce perché Mohammed Dio nasce perché ho trovato questo libro che si chiamava il banquere di Comer e che raccontava l'esperienza di Mohammed Dio di questo tipo di microcredito a Napoli facendo un film diciamo più accessibile polarmente più godibile secondo me o cosa spagnano no questo non so sono fatti io ormai sono fatti anche bene c'è così anche la risposta un po' Grazie a tutti